Ultima settimana di scuola e anche ultimo video per l'anno scolastico 18-19. Spero abbiate trovato interessante almeno alcuni dei miei spunti e non resta che augurare a chi di voi sarà impegnato con gli esami, soprattutto ai vostri studenti, di chiudere in bellezza l'anno scolastico 18-19 e mi auguro di ritrovarvi per l'anno scolastico 19-20 sperando di individuare ancora dei suggerimenti, degli spunti, delle indicazioni che possono essere utili perché affrontate anche i temi di attualità, di vivida attualità anche con i vostri nuovi studenti dell'anno nuovo. Ancora buona conclusione dell'anno scolastico e buone vacanze e ci rivediamo alla ripresa. Grazie.